Quindi voi le cavate le chiappe a fesca! Non riuscirò più a togliermi l'immagine dalla testa! Prendiamolo! Ammazziamolo! Peccato che il vostro piano sia fallito, ma avete un piano B, farvi prendere a calci! Non deve entrare nell'ufficio! Aprite il fuoco! Ehi, Yuri! Sì, alcuni dei tuoi uomini erano pagati da fesca! Per fortuna erano l'ultimo baluardo di Yuri! Sono fuori dal suo ufficio! Prendilo! Oda! Con piacere! Per fortuna erano l'ultimo baluardo di Yuri! Sì, alcuni dei tuoi uomini erano pagati da fesca! Sì, alcuni dei tuoi uomini erano pagati da fesca! Scrivi le tue memorie? Non dimenticare il trattino tra Spider e Man! Preparate l'elicottero. Arrivo subito. Sono sorpreso di incontrarti. Ma il tuo teatrino finisce qui. Sai che riesco ancora a vederti, vero? Otto anni della tua insolenza. Oh, per me? Non dovevate! Devo aspettare l'occasione. Stai caricando. Che stai facendo? Com'è possibile? Che c'è, Willy? Sembri arrabbiato. Io ti distruggerò! Fa del tuo peggio! Che sgradevole seccato! Avrai il momento giusto. Che c'è! Grazie a tutti. Tu incarni tutto il male di questa città. Stavo per dire lo stesso di te. Sapete cosa fare. Abbasso. Ragazzi all'attacco. Siete addestrati per combattere. Combattete. A terra! La voglia è morto! È troppo veloce. Non accetto cosa vi pago a fare! Vediamo il boss! Per imbecilli! È per qualcosa che ho detto. Buona perdendo, Willy. Non ho nemmeno iniziato! Te la sei cercata! Giochi col fuoco! Dopo tutti questi anni non hai ancora capito. Ragazzi all'attacco! Dopo tutti questi anni non hai ancora capito. Ragazzi all'attacco! Versa pietà! Aia! Ascoglia questo! Il capo vuole a fare! Non ci riesce! La carica, ora! Perchè non crepi! Ti apredo! Perchè non crepi! La tua morte sarà inutile come la tua vita! Fa del tuo peggio! Facciamola finita! Non ho altra scelta! Facciamola finita! Ah! Allora, dovremmo baciarci? Magari dopo, eh? Finalmente vai a Riker, eh? Mi sa che lì dentro hai anche più nemici di me. Non illuderti che sia più di una breve parentesi. Ops, devo andare. Ehi, buona fortuna, Willy. Ho l'impressione che ti servirà. Idiota! Sono io ad assicurare l'ordine in città! Un mese! Tra un mese tutti rimpiangeranno la mia assenza! Kingpin sta andando in prigione. È la fine di un'era. Dovrei festeggiare con una vacanza. Ciao! Oh no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.